Andiamo subito a dare benvenuto al mio primo ospite Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Una giornata in cui si parla molto di manovra economica perché si attende una lettera che arriverà da Bruxelles che di fatto chiederà di carire certi punti sui quali esprime ancora molti dubbi. Certamente però si parla anche di referendum costituzionale, è iniziato ormai il countdown e soprattutto di tagli alla politica. Ed ecco che arrivo alle DDL che quest'oggi presentate alla Camera per tagliare i costi della politica, gli stipendi dei parlamentari. Assolutamente sì, noi questa proposta di legge l'abbiamo depositata non l'altro ieri ma circa due anni fa. Siccome lei sa per l'opposizione è molto difficile calendarizzare le proprie proposte, dopo tanta fatica ce l'abbiamo fatta. È una proposta molto semplice che va tra l'altro a rispettare anche quei principi che erano sanciti a un referendum dal 1993 sul rimborso elettorale, quindi su un taglio dei costi della politica. Noi lo facciamo su noi stessi, lei sa che dai 10.000 euro l'ordine di stipendio noi 5.000 euro li ridiamo ad un fondo che siamo riusciti a far aprire per le piccole e medie imprese, già 3.000 imprese aperte, 6.000 lavoratori eccetera eccetera. Ora chiediamo che lo stesso taglio venga applicato a tutti i parlamentari, deputati e senatori. Il totale di risparmio annuo è di circa 90 milioni di euro che tra l'altro è circa il doppio di quel risparmio tanto vantato dal trio Renzi, Boschi e Verdini con la loro nuova Costituzione che in realtà con pochi soldi di taglio fa tagliare metà della democrazia. Domani arriverà in aula il voto, sappiamo già perché non ci hanno permesso di lavorare in commissione e che il Partito Democratico non è d'accordo, ma lo sapevamo già, li conosciamo questi soggetti, però è importante che i cittadini abbiano ben di fronte l'assoluta assenza di credibilità di chi propone ai cittadini di votare sì ad una nuova Costituzione perché taglia i costi della politica, l'ha messo pure nel titolo, poi alla prova dei fatti non taglia assolutamente nulla di questi costi. Praticamente voi dite, se effettivamente questo passasse, ecco che riusciremmo a risparmiare molto di più di quanto in realtà prevede già la questione per quanto riguarda invece il governo Renzi, no? E soprattutto probabilmente lo scontro con il Partito Democratico è dettato anche non tanto dalle modalità quanto dalle tempistiche adottate dal Movimento 5 Stelle, sbaglio? Ma assolutamente sì, se dovesse passare la riforma, se domani il PD dovesse votare insieme a noi, il diventamento dei parlamentari andasse subito al Senato, questa nostra proposta di legge la settimana prossima l'abbiamo approvata e senza dimezzare la democrazia, cioè non è che questi signori qua hanno stravolto la Costituzione e la motivazione principale per la quale l'hanno fatto dicendo loro ai cittadini, ovvio che sia falso, questa è pura demagogia, è il taglio dei costi della politica. Bene, oggi i cittadini hanno di fronte quel partito che gli dice che la nuova Costituzione fa risparmiare i soldi della politica, però già sappiamo che purtroppo voteranno no. Però noi siamo gente onesta, brava gente, speriamo fino all'ultimo momento che cambino idea a quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio, in mezz'ora tagliamo gli stipendi in base alle presenze eccetera. Ma quando capiterà? Quando noi abbiamo la possibilità di farlo adesso? E i cittadini hanno bisogno di atti concreti adesso, la sfiducia che i cittadini vivono nei confronti delle istituzioni, necessita di atti forti, soprattutto atti immediati. Quello che invece stanno facendo loro con la nuova Costituzione, Renzi, Boschi e Verdini, porterà, dando un maggiore potere, una stretta oligarchia di potere, ripeto, invece un ulteriore allontanamento. Noi siamo dalla parte dei cittadini, chi voterà no a questa nostra proposta sarà dalla parte della Cassa, mi pare abbastanza evidente. Ecco, Soninelli, lei ha anticipato la mia domanda appunto sulla proposta provocatoria, quella dei premier Renzi, su misurare l'indennità in base alla presenza dei parlamentari. Poi però c'è stato un affondo, forse un po' più importante, perché ha citato di fatto Di Maio, che a suddire non sarebbe poi così tanto presente, insomma di fatto ha scatenato una polemica, che è stata una provocazione. Voi come la state prendendo? Ma guardi, ha detto bene, lei è stata una provocazione di un soggetto che non fa altro che raccontare, di dire che non fa altro, che dire cose e fare del suo opposto. Il Presidente del Consiglio sa perfettamente che la carica ricoperta dal Vice Presidente Luigi Di Maio è una carica istituzionale e per questo ha una marea di incontri istituzionali. Mi piacerebbe sapere quante volte sta a Palazzo Chigi, signor Renzi. A noi risulta che c'è stata una settimana in Brasile, al Villaggio Italia, durante le Olimpiadi, dove si sia parecchio anche divertito. Di conseguenza, guardi, rispediamo al Mizzente questa provocazione, lo invitiamo a venire in aula e convinca i suoi del PD a votare a favore di questa proposta. Penso che così facendo tutti i cittadini avranno maggiore fiducia anche lui. In aula dove sarà anche il vostro leader, Beppe Grillo, che ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori del Movimento 5 Stelle anche a manifestare fuori da Montecitorio. Ma assolutamente sì, ripeto, sono quei momenti importanti. I cittadini sono scoraggiati, non si sentono rappresentati dalla politica, non vanno più a votare, non si candidano più a diventare politici. Questo è un dramma, un dramma sociale, le nostre migliorimenti che se ne vanno. Questi altri, anche se non fanno per 87 milioni, diciamolo ovviamente, non è che fa ripartire l'economia, ma è il messaggio. Noi stiamo dando un messaggio di fiducia ai cittadini. Stiamo dicendo che prima di tagliare i servizi e aumentare le tasse ai cittadini, ci tagliamo, la politica taglia i soldi che arriva a certezza. È per quello che è un voto importantissimo. E se dovessero, come io purtroppo penso, e dovesse capitare che ce lo bocciassero, che lo rimandassero in commissione, dicendo, ne riparliamo dopo il referendum, io sono convinto che tutti i cittadini già capranno che sarà la fine di questo provvedimento e che questa bella cosa non capiterà mai. Grazie Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle per essere stato nostro ospite. Quattici con 24.